Buongiorno, vedo di che qua arriva il Norberga E voi, sempre tanti caffè, tenete una faccia, voi vi dovete guardare, guardate la vostra collega come è bella, perché la faccia è bianca e rossa, proprio il ritratto della salute Allora gli affari vanno bene? Eh sì, vanno bene? I gli enti non si lamentano? E non si lamentano? E qui vi sbagliate, perché gli enti si lamentano E di che cosa si lamentano? Si lamentano che non sapete fare il vostro vestire E come vi permettete? Vi posso permettero tutto il diritto di permettermi Vi ricordate che 15 giorni fa sono venuta per una raccomandata? Qui è davanti a gente, vi chiede sulla parola, e allora? E allora la raccomandata non è mai arricchilata L'avete persa? E datemi il tempo di controllare, datemi la ricerca Ecco qua La raccomandata non è andata persa, è tornata indietro, perché l'indirizzo a cui l'avete mandata non esiste Come non esiste? L'indirizzo esiste e poi si devono bugiare E voi li prevedete? Si, bugiati e incompetenti E tu sei la rientratrice? Io, io sono la rientratrice Si è vero, è vero, l'ultima volta che siete venute a sto buberino è stato per tre giorni sopra la...e...e...e...e andato avanti e indietro per tre giorni dal bagno E sempre per tre giorni, per la caduta che Bo Jr era usato è andata avanti e indietro col bastone Per tre giorni! Avanti e indietro dal bagno col bastone E la faccata! E tutto questo per colma tua. Si guerra. Io! Io sono la guerra, non c'è sake Non c'è況 frankly Non c'è Radio ciao sono un gioco perchè io non vi scrivo ne lo so proprio non vi ringrazia sono un gioco sono un gioco non vi ringrazia non vi ringrazia non vi ringrazia e la plega cavall guccia e marmogcia, tutti scelta le guccia e auguri anche le ritte ma la britta finita a briga scritta scatta il bile e credi marmogcia e linda venita e linda non finisce qui non finisce qui non finisce qui e linda finisce qui e tu non te volete chiù e la buona si si qui e la buona che si e non e il il di D-E-R-P D-E-R-P That spells dirt, yeah! D-E-R-P